Bene. Passare a piede l'alto delle braccia liberamente. Spiro nel dorso. E poi cominciamo con un primo esercizio. Sollevare le braccia, sollevare le leggi e proprio anche l'esercizio che si fa. La forma delle leggi. Inspiro. E inspiro. Vi ricordo il mondo su cui non c'è un grazie. Un punto Yon-Juan. Del piede che sorve la legge alla terra. Il punto loro volo del palmo della mano. E' già stata la terra. E' già stato il corpo fino alla mano. E' già uscita. Spiro. E' già uscita. 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 Adesso senza fermarci il secondo momento, salire e poi partire il piede. Per chiudere e riportare insieme il futuro con la mano, con la luce. E sempre a sortire dalla terra, a dire tutto in ispirazione o in ispirazione. Il flusso continua all'interno del corpo. Adesso un terzo esercizio senza fermarci. Per chiudere e riportare la sfera sulla testa, mantenere il lavoro in relazione. E poi, finalmente, si rispondeste. Tocchiamo giù all'interno. Continuiamo con separare la terra. Per chiudere e riportare la terra, salire e riportare il cielo separato. Per chiudere e riportare il cielo separato. Per chiudere e riportare il cielo separato. Se lo sottolineiamo, il movimento di spingere. Per chiudere e riportare il cielo separato. Spingere in avanti. L'importante è sempre il futuro colore della mano. E più due, più due, più due raguoglie scegli. Il canale esercizio della vita. Lasciaci percorso, spingere in avanti. Un vento morbido non metterà l'intenzione di un bene. Un vento morbido non metterà l'intenzione di un bene, leggermente in avanti con le mani. Di attenzione alla zona lombare, forzate sui venti. Un vento morbido non metterà l'intenzione di un bene, leggermente in avanti. Un vento morbido non metterà l'intenzione di un bene. Un vento morbido è anche un avanti. La città non metterà l'intenzione di un bene. Lavorare pe Ris ん Ferrand Negri Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso gratuito.